vuoi fare una foto? certo no, non così, non così molto meglio e dove ne imparate tutte queste cose? Ale è tardi, sei pronta? sì, ho quasi finito fammi vedere che hai fatto guarda come sono carina no, amore, non va bene ti faccio vedere io che ti fa ecco, guardati bello, ma dove ne imparate tutte queste cose? Anna, è tardi, fai presto, andiamo sono pronta ma devo insegnarti anche a camminare cittacchi guarda qua ma dove ne imparate queste cose, mamma? ma ci vuoi dire dove hai imparato tutte queste cose? accolto e manco grazie a tutti grazie a tutti